A Piano Vettore sull'Etna si è conclusa ieri la festa della montagna, una o due giorni immersa nella natura ad alta quota con escursioni, degustazioni di prodotti tipici, musica, mountain bike, enduro, con la giornata dedicata alla scoperta dei trail e altro ancora. La festa della montagna ha visto coinvolti nell'organizzazione in sinergia i comuni e le proloco di Belpasso e Ragalna con il CAI di Belpasso e il Parco dell'Etna. La finalità dell'iniziativa è fare riscoprire i territori non solo ai turisti ma anche ai residenti della zona etnea, sinergia anche per la valorizzazione dei prodotti tipici, come sottolineano Carmelo Spina, presidente del Consorzio per la tutela della ciliegia dopo dell'Etna e il presidente di Euroagrumi Salvatore Rapisarda, subito dopo le brindisi con il centrifugato di Fico d'India. Sono queste le manifestazioni territoriali importanti che avvicinano il consumatore a questi prodotti di nicchia, questi prodotti particolari. Poi c'è un fatto sempre che quando il dottor Rapisarda chiama il ciliegio risponde sempre puntualmente a questi incontri che cerchiamo di tenere sempre assieme, perché siamo convinti sempre, almeno così la pensiamo con il dottor Rapisarda, che questi prodotti dell'Etna devono andare tutti assieme a cercare di creare un gruppo di prodotti tali da coprire tutto l'anno, in modo che in tutto l'arco dell'anno noi possiamo disporre di prodotti tipici dell'Etna proprio. Anzitutto fammi ringraziare il dottore Spina, presidente del Consorzio di tutela, perché ogni quando c'è una manifestazione, devo dire a un'ora del vero, è stato iper presente. E questo è un fatto positivo, un presidente che ci crede veramente fortemente con tutta l'anima e questa cosa aiuta molto nel promuovere i prodotti. Poi è chiaro, si parla di panieri, di panieri di prodotti, quindi arancia rossa IGP, figo d'India dell'Etna DOP, ciliegia dell'Etna, pistacchio di bronte. Poi questa è la festa della montagna, cioè questa è la festa dell'Etna, come facevamo noi a non essere presenti alla festa dell'Etna, è la nostra festa caro Carmelo, della ciliegia dell'Etna e del figo d'India dell'Etna. Noi ci auguriamo davvero che sia il primo di una lunghissima serie di appuntamenti, racchiude in sé tutta una serie di progetti, progetti che sono nati per unire i comuni della sommità dell'Etna, quindi oltre al nostro bel passo e in futuro ci auguriamo anche Nicolosi, perché questo territorio è una perla che va tutelata ed è la nostra vera ricchezza. Il principio, l'obiettivo che vogliamo è quello di dare l'opportunità sia ai comuni del Parco dell'Etna, ma a tutte le comunità, tutti i territori dell'Interland, di usufruire del Parco dell'Etna, della nostra bellissima montagna. Attraverso, ripeto, tantissime iniziative, questa è una delle tante, questa è una che raccoglie attività sportive, attività escursionistiche e anche l'area food, il chilometro zero, il DOP, proprio perché l'Etna è così vasta, è così ampio, il tema Etna, che può raccogliere e può essere condiviso da diverse e tantissime cittadine. Perché tutto questo è nato, sei anni fa, quali erano le finalità di questa iniziativa? Le finalità, soprattutto, di dare visibilità al territorio nostro e di incrementare il rapporto con la natura delle persone che si approcciano a fare delle escursioni in montagna. Ad alta quota anche la corsa, abbiamo anche gli atleti, Verona era nelle vesti di centrifugatore del Fico d'India stamattina, ma ci sarà anche la corsa? Sì, sì, esatto, do una mano e tra l'altro il centrifugatore, così come mi hai definito, Fico d'India, Fico d'India che è tante, tantissime proprietà e vi esorto, anzi vi invito, scusate, proprio a provarlo questo succo di Fico d'India perché vi dà tanta carica, tanta energia. Nel programma anche il momento dedicato all'escursione enduro con mountain bike, ci spiega come si sviluppa questo momento? Sì, praticamente le mountain bike vengono portate su dalla funivia per poi scendere dagli sterrati sotto i piloni o accanto ai piloni, dove loro scenderanno ad alte velocità, qualche salto, qualche curvone, che è tipico di questa disciplina, appunto l'enduro mountain bike. Sono ciclisti che possiamo definire un po' estremi, giusto? Perché la bici diventa una sorta di motocross, possiamo dire così? Una sorta di motocross, appunto, questa è la parte estrema appunto della mountain bike, seguita infine dal downhill che è un'altra disciplina ancora più estrema dell'enduro, che l'enduro magari prevede anche qualche risalita pedalata, il downhill solo discese con saltoni.